I carabinieri della compagnia di Fontana Rossa hanno tratto in arresto due catanesi di 31 e 27 anni, quest'ultimo in particolare già sottoposto anche alla sorveglianza speciale, entrambi responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'arma stavano svolgendo uno specifico servizio contro lo smercio di droga nel quartiere di Librino quando nello spiazzo adibito a parcheggio di uno dei palazzi condominali di Viale Nitta, la loro attenzione è stata attirata dallo strano comportamento di un soggetto poi identificato nel 31enne il quale disinteressandosi delle persone con le quali stava colloquiando si è invece preoccupato di seguire le loro mosse, era ovviamente una vedetta di supporto agli spacciatori. I carabinieri a quel punto hanno avviato un'attività di avvistamento discreta che evidenziando il continuo via vai di persone che entravano in quel civico uscendone dopo pochi minuti ha fugato ogni loro dubbio sull'esistenza dell'attività di spaccio in uno degli appartamenti che tra l'altro soltanto lo scorso 24 gennaio era stato sequestrato nel corso dell'esecuzione di 14 misure cautelari in carcere nell'ambito dell'attività investigativa denominata Sottosopra. Consapevoli della presenza delle telecamere nascoste dagli spacciatori i carabinieri si sono così accodati ad alcuni clienti e hanno fatto irruzione in quell'appartamento sfruttando l'apertura della porta per l'ingresso di un acquirente. Qui i militari hanno nuovamente trovato il 31enne che prima li aveva seguiti per osservarne le mosse stavolta con la droga in mano che alla loro vista chiaramente sorpreso ha subito riposto sul tavolo nonché il 27enne che invece stava curando la visione del sofisticato impianto di videosorveglianza con quattro telecamere eluse dai carabinieri che sono invece riusciti a pizzicarli con le mani nel sacco. All'interno dell'appartamento su un tavolo sono state così recuperate tre dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio. Tre buste di plastica contenenti complessivamente una trentina di grammi circa della medesima sostanza e una decina di grammi di cocaina nonché un bilancino di precisione necessario materiale per il confezionamento della droga e la somma di 75 euro. Sequestrato infine anche il televisore collegato all'impianto di videosorveglianza che monitorava gli accessi al palazzo e sul pianerottolo. Tutto ciò mentre gli acquirenti continuavano ad affluire in quel minimarket della droga per l'acquisto della loro dose salvo mestamente poi scoprire che chi gli apriva la porta era un carabiniere con la richiesta dei documenti per la loro identificazione. Stante inoltre i precedenti specifici del 27enne i militari dell'arma hanno perquisito anche la sua abitazione sita al piano sottostante all'interno della quale hanno altresì scovato la somma di 3.255 euro ovviamente sequestrata perché è ritenuta provento dell'attività di spaccio. I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere.